L'amministrazione di Fano, gli studenti del Don Orione e l'Università Politecnica delle Marche si sono incontrati questa mattina al Cinema Masetti per illustrare il progetto presentato in occasione del PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della città fanese. PEBA altro che non è che uno strumento che abbiamo adottato assieme al Comune di Pesaro lo scorso anno, abbiamo assolutamente la necessità di elevare quella che è la qualità della vita cittadina, della sostenibilità e quindi che favorisca l'accessibilità alla stessa città da parte di tutte le persone in tutti i suoi spazi. Abbiamo bisogno che le persone abbiano una vita attiva. Oggi i ragazzi sono qui a presentarci un loro prototipo che vada a dare un beneficio rispetto ai servizi che possono avere persone portatrici di disabilità. È molto importante la loro partecipazione proprio perché sottolinea quanto sia prezioso il loro lavoro all'interno della città. Ed ecco il prototipo che i ragazzi hanno ideato e presentato. In breve una piattaforma pantografo alimentata da un motore elettrico che attiva un pistone permettendo alla carrozzina di elevarsi a qualsiasi altezza e che appoggia direttamente alla superficie. Si tratta di un sistema di sollevamento da poter collocare in determinate zone della città di Fano al fine di poter abbattere quelle che sono alcune barriere architettoniche. Quindi nelle zone in cui abbiamo difficoltà all'accesso, arrivare a una certa quota, che può essere, non so, utilizzare uno sportello Bancomat o suonare un campanello di un ufficio pubblico eccetera, la scuola Don Orione, l'area meccatronica sta pensando e stiamo progettando quello che è un sistema di sollevamento per poter accedere a zone insomma di difficile accesso. Un piano sviluppato grazie all'Università Politecnica delle Marche che ha seguito tre diversi aspetti e ricerche e che presenterà lo studio nel mese di maggio a tutta la città. Il primo è stato quello della fase di ascolto. La fase di ascolto è stata una fase molto interessante nella quale abbiamo coinvolto le principali associazioni interessate al piano di eliminazione delle barriere e abbiamo accolto anche i commenti mediante dei questionari di molti studenti e di molti cittadini, proprio per poter avere il punto di vista di chi quotidianamente vive la città. La seconda fase è stata invece quella di studiare i dati, ovvero abbiamo avuto accesso a tutte le informazioni sulla densità della persona, sulla densità di spostamenti, sulle principali traiettorie di spostamento delle persone nelle città, quali sono i principali luoghi dove vengono erogati i servizi. Infine abbiamo anche provato ad identificare le principali tecnologie ICT, quindi Information and Communication Technologies, che un domani possono aiutare a migliorare l'accessibilità in tutte le parti della città.